Ragazzi, ancora non c'è il riferimento in me, c'è la vita tranquilla. Adesso canta le scene mondiali con la musica Altecno. Alforum è il sito di riferimento. Ci siamo incontrati che era un anno fa, l'unica in Europa con l'Altecno. Ma questa sera per Sony Memories è qui, in a casa di Sedella. Buon appetito! 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 Buon appetito!